Grazie a tutti. Il lato della cittadinanza è quello su cui siamo dovuti cambiare di più, quindi il nostro modo di rapportarci alla cittadinanza è molto evoluto e fondamentale è stato capire e riconoscere le risorse e le capacità che la comunità ha di produrre salute mentale. Abbiamo dovuto fare dei passi indietro per cercare di lasciare spazio ai cittadini che seppur inizialmente con preoccupazioni, con tanti dubbi, con pensiero di non essere in grado e di non essere capaci, piano piano si sono dimostrati invece degli interlocutori molto competenti e molto forti. Per aumentare questa capacità la chiave di svolta fondamentale sono state due. Uno, informare la cittadinanza perché solo in questo modo noi la potevamo rendere comunque più competente in merito e quindi aumentare la possibilità di un confrontale a pari tra di noi, altrimenti parlevamo dei temi in modo asimmetrico. E poi metterci assolutamente in discussione come servizio. Abbiamo dovuto ricalibrare tantissimo l'organizzazione dei social point che peraltro ogni giorno evolve, cambia, cioè è tipo una massa che si smuove al bisogno. Abbiamo capito che solo in questo modo noi riusciamo a creare un patrimonio comune che si moltiplica e incrementando in questo modo tutti i processi di empowerment e tutti i processi di partecipazione comunitaria. Questa cosa abbiamo cercato di farla anche con i gruppi di automuto aiuto e molti di voi ricorderanno quando nel 2009 abbiamo invitato qua a Modena Ron Coleman e abbiamo fatto prima una formazione, ci ha parlato di recovery, di editori di voci, poi l'abbiamo portata in piazza grande. E in piazza grande, oltre alle campane, si parlava di voci davanti a tantissime persone il sabato pomeriggio. Io chiedo se è possibile fare andare... Già? Ok. Questo è uno dei lati delle locandine del gruppo di uditori di voci che abbiamo fatto, in cui abbiamo in generale dato informazioni su che cosa vuol dire sentire le voci e abbiamo sottolineato che non bisogna per forza essere matti per sentirle, ma ci sono persone che sentono frusci, voci, insomma, senza essere utenti dei servizi e Cristina Contini portò proprio questa testimonianza. Poi nell'altro lato, se puoi fare andare, abbiamo dato in generale quando si fa, cos'è, chi è rivolto e chiunque può contattarci per partecipare e venire e come diceva Angelo, non sappiamo più dove mettere gli uditori di voci. Quindi poi il passaggio successivo che abbiamo fatto è stato, se ne vogliamo fare tanti, l'operatore deve avere il primo obiettivo di formare un facilitatore utente. E così, grazie poi all'aiuto anche di altri operatori del servizio, vedo qua per esempio la Filomena, siamo riusciti a liberare risorse lasciando facilitatori utenti, come per esempio Marco Casarini che molti di voi conoscono, lasciando a lui la gestione di un primo gruppo, la facilitazione di un primo gruppo e noi cercando di seminare, far crescere altri gruppi. In questo modo abbiamo ovviamente creato un capitale sociale che rimane, che si continua a riprodurre, che è il discorso iniziale che vi facevo sul valorizzare le competenze della comunità. Io volevo semplicemente dire quello che ho imparato da queste ottime relazioni e la cosa che mi ha suscitato più potentemente è il senso di discontinuità. Io vorrei fare una metafora, io per un certo periodo della mia vita ho letto moltissimo, ma facevo fatica a lasciare un libro per un altro, perché se un libro è veramente bello lo rileggeresti in continuazione. Invece la psichiatria e in questo periodo della psichiatria mi accorgo che ci sono tante cose possibili da fare e è la forza di queste cose che si possono anche interrompere. Cioè alcuni costrutti generali del nostro lavoro non potranno essere mai interrotti. Anche alcuni tabù, io ho apprezzato molto che la dottoressa Ridente abbia detto comunque in Italia non abbiamo i manicomi, perché in altre realtà estremamente voluti in alcuni aspetti della recovery e di altre cose hanno comunque ancora i manicomi. E credo che c'è da essere orgogliosi come psichiatri italiani, io credo di molte cose, non di altre ma di psichiatria forse sì. E quindi secondo me ritorno alla questione che si può abbandonare un libro bello per un altro, si possono fare gruppi e interromperli, si possono fare realtà mantenendo alcuni principi fondamentali. Quindi questo è con forza che credo che si possa imparare attraverso queste conoscenze fra servizi. Cioè stiamo aprendoci, secondo me, oltre che ai reparti, si stanno aprendo i servizi nel senso che si conoscono più realtà multiple. Una volta si guardava solo Trieste, anche con giustezza, e io sono d'accordo che è stato un punto di riferimento straordinario per la realtà italiana. Ora c'è Caltagirone, c'è Grosseto, ci sono molte realtà e anche Modena sta facendo qualcosa e secondo me questo permette a tutti di avere il senso anche del proprio limite rispetto a quello che sta... Tornando alla mia metafora, si può cambiare libro anche senza disperarci di questo. Grazie. Buongiorno, io mi chiamo Luca e collaboro con l'associazione, insieme a noi, l'associazione di familiari, prima rappresentata qui da TILD. Io sono stato proprio un caso di quel tipo di facilitatore volontario, perché proveniendo da un altro tipo di formazione, diversa da quella dei tecnici della salute mentale, mi sono sperimentato nel rapporto con le famiglie e per me è stata un'esperienza anche personalmente importante, importantissima. E forse come riflessione quello che ne ho tratto in maniera più significativa è stata anche la connessione stretta che si verifica tra il modo in cui noi possiamo vedere una situazione noi stessi e la capacità di agire che abbiamo su una qualsiasi realtà. Infatti è proprio questo l'argomento su cui vorrei proporre qualche riflessione o chiedere delle valutazioni. Alcuni argomenti. È stato indicato dal professor Corlito come effetto positivo dell'automutuo aiuto la riduzione della rivendicatività, quindi come tendenza alla passività dell'utente, ma si può dire anche della famiglia che come abbiamo visto ha assunto anche storicamente in Italia delle posizioni anche invece regressive rispetto al servizio. Quindi la riduzione della tendenza alla passività o peggio alla negatività nei confronti dell'assistenza. Il tema della rivendicatività io però proporrei in qualche modo di modificarlo. Io direi che invece di rivendicatività bisognerebbe individuare un'altra parola perché rivendicatività ricorda un po' troppo una forma di consolidato pregiudizio che certe volte viene portato da parte del servizio nei confronti delle famiglie. Io credo, mi sono fatto un po' questa esperienza, che la cultura organizzativa di un servizio sia performativa rispetto a quella delle famiglie. Cioè in qualche modo, e degli utenti anche, utenti e famiglie prendono quello che c'è e adattano la loro cultura all'offerta del servizio. Quindi io piuttosto che rivendicatività, che fa pensare al fatto che gli operatori tendono a vedere la famiglia come rivendicativa e quindi spesso fanno fatica ad organizzare gli spazi di ascolto e di auto-organizzazione, a mettersi ai margini, come ha detto Manuela prima. Piuttosto che rivendicatività, io proporrei di cambiare la parola e di dire incapacità di agire, ancora non abbastanza sviluppata, capacità di agire e di influire sulle cose. Perché credo che sia quello poi un obiettivo dell'automuto aiuto, anche per evitare quello che diceva la dottoressa Ridente sulla partecipazione manipolatoria, no? In realtà la partecipazione è la capacità di agire sul proprio contesto, sulla propria comunità, con la cittadinanza. Ed è un po' questa l'esperienza che io ho visto in associazione. Cioè che tante volte piuttosto che appunto rivendicare con il servizio, è diventato importante scendere in piazza e sentirsi cittadini. E poi a partire da quello magari è iniziata la capacità di contrattare con il servizio e l'organizzazione di qualche attività comune. Grazie. Mi chiamo Silvana Cominale, sono una pediatra, voglio fare un brevissimo commento su una cosa vecchia che era lo stile professionale, il famoso power to empower, che è difficilissimo da tradurre. Allora, erano molti anni fa, si diceva che c'erano due modi di intendere il potere, uno maschile e uno femminile. I maschi pensano che dare potere o comunque il potere è qualcosa che si divide, anche quando si condivide, è un qualcosa che si misura e se lo dai lo perdi, in qualche modo, no? Questa paura di perdere risorse o comunque questo misurarsi con un qualcosa, con la paura che finisca, no? Mentre la visione femminile è che il potere non è una risorsa che tu perdi, ma c'è un power to empower che circola e quindi c'era un rapporto professionale tra medico e bambino, in questo caso, no? Come pediatra e famiglia, che portava in circolo una risorsa che non si aveva paura di perdere perché appunto era un power to empower. Buongiorno, io mi chiamo Giuliano, sono un familiare che ha sempre vissuto, cioè ha convissuto con chi aveva il problema e io sono intervenuta perché faccio parte di un gruppo di auto mutuo aiuto che è nato nell'associazione insieme a noi al quale sono arrivato grazie all'invito di una persona che già lo frequentava e in quel momento devo dire che io ho partecipato a questo gruppo, cioè in quel momento lì che era un momento di fra virgolette disperazione e nel quale io mi sentivo una condannata vita, cioè all'ergastolo in pratica perché non trovavo una via d'uscita, diciamo che la mia spinta a partecipare a questo gruppo era una spinta rivendicativa tornando a quel discorso perché io volevo trovare una strada perché fossero riconosciuti i miei diritti di familiare in quel momento a non dovere vivere in solitudine questa disperazione che mi causava questo problema e sì, quel gruppo che frequento io è un gruppo che ormai funziona da alcuni anni perlomeno dal momento in cui io sono partecipato ed è composto in particolare di familiari che convivono con l'utente però, per esempio, nel tempo alcuni familiari, perché molti, cioè inizialmente si partecipa per risolvere il proprio problema si pensa di trovare una strada per uscire da questa situazione nel tempo alcuni familiari, secondo me, che poi non hanno trovato questo tipo di risposta hanno lasciato il gruppo io ho avuto invece, per esempio, personalmente un'evoluzione, dico positiva in questo senso che io adesso frequento il gruppo, cioè mi ha aiutato a me come persona quindi frequento il gruppo perché ci tengo a ritrovare periodicamente queste persone con le quali si sono creati anche rapporti di amicizia e poi il gruppo mi ha aiutato e penso anche a quelli che partecipano di uscire dalla solitudine del problema nel senso che tu subito credi di essere solo tu che appunto, cioè cosa c'è? Nessuno ne parla, cerchi di tenere tutto all'interno della famiglia perché pensi che sia una questione anche di vergogna il fatto che si sappia che nella tua famiglia c'è questo problema perché ti auto-accusi di tutto ciò che è successo dicevi è stata una mia incapacità, non ho saputo fare la madre quella volta ho fatto questo quindi questo sicuramente ha influito sulla situazione del familiare eccetera invece nel tempo vedo che partecipo adesso a questo gruppo per un mio piacere nel senso che ho il piacere di avere questo rapporto con le persone che ho conosciuto e certo che nel tempo lo scambio di opinioni, lo scambio di esperienze ha permesso ad ognuno di noi anche di ricavare dei suggerimenti di comportamento magari in determinate situazioni quindi ad affrontare in una maniera positiva la situazione mentre prima magari la si affrontava in una maniera più conflittuale insomma e quindi il nostro gruppo non è un gruppo dove ci siano delle regole particolari se per esempio uno arriva in quel momento e è particolarmente sotto stress può anche parlare per mezz'ora lui insomma cioè serve proprio per lo sfogo di chi arriva e poi chiaramente gli interventi dopo sono orientati anche a cercare di risolvere il problema di quella persona cioè non c'è la regola che si parla a turno ogni due minuti si fa il giro addirittura adesso siamo anche arrivati a parlare di problematiche della nostra infanzia dei rapporti per esempio parliamo anche dei nostri rapporti che abbiamo avuto noi con i genitori come abbiamo vissuto la nostra famiglia perché magari all'interno della nostra famiglia c'è stato un qualche cosa che ha portato anche al problema che è nato al familiare che potrebbe anche essere dovuto al nostro passato quindi qui non abbiamo saputo voglio dire anche affrontare determinate situazioni quindi ho trovato la mia esperienza molto positiva e questo che volevo testimoniare insomma buongiorno sono un'infermiera mi chiamo Filomena sono un'infermiera del centro di salute mentale noi infermieri facciamo sempre un po' fatica a venire a parlare perché penso che abbiamo poca autostima ancora quindi ci dobbiamo fare insomma ho fatto la formazione come facilitatrice rispetto ai gruppi di auto mutuo aiuto per uditori di voci e sarei anche consulente rispetto a tutte le problematiche riguardante appunto il problema di uditori di voci sarei dico perché insomma con il mio lavoro faccio fatica a orientarmi anche verso altre cose quindi per adesso sto appunto facilitando o perlomeno sto affiancando una facilitatrice in modo da fare un po' di più di esperienza diretta perché finora ho acquisito pratica ma esperienza diretta non ce l'ho e quindi sono ben lieta di affiancare la dottoressa Sonia Benturini in questo percorso e ci sono alcuni pazienti del mio CSM che vengono e insomma penso che sia una cosa ancora che debba divenire quindi ci sarà bisogno di tempo però abbiamo messo in moto questo meccanismo e auspicò che ci siano più gruppi di auto mutuo aiuto anche rispetto agli operatori infatti ne parlavo prima con l'Agnese dicevo ma se facessimo un gruppo di auto mutuo aiuto per noi sarebbe utile perché prima di mi è rimasto impresso ieri l'ha fatto io quando nelle richieste degli operatori degli utenti si parlava della richiesta di avere un operatore sano ecco penso che dobbiamo iniziare da noi prima perché se non iniziamo da noi non possiamo certamente aiutare i nostri pazienti e poi ho anche la mia collega Agnese che va negli appartamenti lei non vuole venire a dirlo perché ancora meno autostima di me però va negli appartamenti a facilitare comunque gli utenti che risiedono residenti negli appartamenti mi pare una volta la settimana se venissi qua tu lo diresti tu e niente volevo solo dire questa cosa grazie Comincio io allora ringrazio veramente perché gli stimoli che stanno nascendo da questa discussione sono tantissimi non so da dove cominciare insomma cerco di essere un po' sintetica e dare un filo la prima cosa ringrazio il collega che mi dà l'opportunità insomma ne parlavo prima con il dottor Gibertoni a me non piace dire il modello di Trieste perché veramente oltretutto dopo tanti anni con tanti cambiamenti mescolanze di cose credo che Trieste sia stata a volte messa in un modello il che ha anche ridotto la possibilità di scambio un po' più proficui con tutti e tra tutti che credo sia inutile inutile per tutti insomma almeno parlo per me ma non credo di parlare sul titolo personale non c'è nessun interesse e nessuna intenzione di una cosa del genere ogni realtà giustamente come il collega rilevava delle cose preziose che vanno valorizzate e soprattutto in tempi come questi penso dobbiamo darci un po' di di aiuto reciproco perché sono tempi abbastanza difficili credo un pochino per tutti e quindi questo è il primo punto giusto per chiudere una cosa l'altra cosa ecco la persona che è venuta e ha detto in due frasi quello che io disperatamente ho cercato di dire in un'ora e non so nemmeno se ci sono riuscita capacità di influire sulle cose e scendere in piazza non è un aizzare le persone a scendere in piazza però mi sembra che il concetto sia veramente un pochino questo insomma acquisire quel potere personale attraverso tutte le proprie esperienze per poter poi diventare soggetti che influiscono veramente sulle cose allora noi operatori operatrici dobbiamo capire come affianchiamo le persone a servizio delle quali siamo per sostenerle in questi progetti ecco perché non mi vengono parole più semplici per dire quello che penso su Power to Empower questo penso che sia una cosa fondamentale penso che molte partite perse più che partite proprio ecco sì perse dalle donne non solo dalle donne dei soggetti che comunque in qualche maniera conservano delle forme di debolezza nel sociale nasca da proprio questo non riuscire ancora fino in fondo a mettere in discussione che è un problema condiviso quando parlavo prima di specificità di genere mi riferivo anche a questo una messa in discussione dei concetti del potere è alla radice delle cose c'è poco da fare una lezione che io ho imparato quando sono arrivata a Trieste più di 30 anni fa le parole d'ordine le parole chiave che nascevano sempre dalle parole di Basaglia e che rimangono sono che il potere il potere non viene dato non viene mai dato il potere il potere bisogna prenderselo c'è poco da fare è così nella mia esperienza anche a volte pagando personalmente ho capito e sto ancora capendo che ecco il potere non c'è nessuno che ti dà il potere non si vede perché lo dovrebbe fare non ci guadagna niente se ce l'ha se lo tiene ben stretto quindi il potere bisogna prenderselo questo vale assolutamente per tutti e su questo ci sono delle responsabilità personali che vanno assunte e c'è poco da fare quindi benissimo tutti i percorsi che possono essere attivati ma ci vuole questa assunzione come dicevamo all'inizio come dicevo all'inizio di consapevolezza e di assunzione di responsabilità rispetto a questi punti dove uno deve anche decidere e quindi questo è lo stesso discorso che oggi che faceva la collega infermiera e che penso stia attraversando per fortuna il mondo dei professionali è fondamentale perché solo questi processi attraversano tutti non possono attraversare solo uno per poter coinvolgere anche la persona con meno potere devono attraversare assolutamente tutti e questo quindi è una cosa una cosa importante credo da da tenere presente grazie dottor Corlito rapidissimamente alcune cose rispetto a quello che è stato detto mi pare che la signora che parlava della sua esperienza dell'autoaiuto come familiare abbia detto chiaramente quello che io cercavo di spiegare che cos'è il rivendicazionismo cioè uno può chiedere ad altri di fare qualcosa per se stesso e oppure lo può fare banalmente la signora ha espresso una sua una sua esperienza che dice io rivendicavo di non essere condannata nel gastro ho cominciato ad andare a un gruppo di aiuto e ho ottenuto di ottenere uno spazio di condivisione con altri quindi questo è sicuramente un processo di auto emancipazione invece di pensare che io devo rivendicare che qualcuno faccia qualcosa per me io lo faccio per me quello che io dico è che si può fare un passaggio ulteriore cioè non solo lo faccio per me ma siccome lo faccio per me posso farlo anche insieme ad altri e questo è il passaggio dall'auto aiuto all'auto mutuo aiuto cioè che c'è una mutualità rispetto alla questione che ha sollevato Filomena cioè al discorso dell'auto aiuto degli operatori una cosa che è abbastanza utile che cerchiamo di fare l'agro seto abbastanza regolarmente è la mutua supervisione di quelli che fanno i facilitatori dove non si parla dei problemi che hanno quelli che vengono ai gruppi i membri dei gruppi quali sono i nostri problemi rispetto allo stare nel gruppo che non è una cosa così facile da fare quindi questo potrebbe essere una risposta a quel tipo di questione l'altra questione che è un po' passata sotto silenzio quella del primo intervento volevo recuperarlo la signora di idea in circo diceva forse sarebbe utile fare dei gruppi misti io penso che non c'è problematica dell'assoluto mentale e non c'è problematica del vivere umano che non passi attraverso le famiglie cioè è che è molto difficile per chi lavora nei servizi che sono ancora improntati al modello medico tradizionale che è il modello duale individuale pensare che dietro al famoso paziente che arriva c'è una rete e questo vuol dire tagliare un angolo di visuale che taglia anche alcune risorse cioè fare la mappatura della rete con chi viene serve a vedere che sono delle risorse latenti che spesso sono risorse della famiglia ristrette ed allargata io ho alcuni dubbi rispetto a questo io penso che sia applicabile a tutto forse l'unica situazione in cui andrebbe garantito uno spazio separato sono i problemi degli adolescenti che per la fase del loro sviluppo che hanno hanno bisogno di uno spazio proprio in particolare i disturbi della condotta alimentare secondo me hanno bisogno di uno spazio separato lo dico con molti dubbi nel senso che andrebbe valutato cosa funziona meglio cioè non si può ragionare in termini pregiudiziali altra questione come ci chiamiamo utenti eccetera io per il momento preferisco la definizione che hanno dato la rete dei cittadini utenti della regione toscana perché mantiene questa nella definizione complessa questo passaggio da utente a cittadino come portatore di interesse e poi perché la parola cittadino mi piace dall'evoluzione francese in qua ultima questione il collega rapidamente psichiatra che diceva della discontinuità io sono uno che legge diversi libri in contemporanea mi annoio a leggere sempre lo stesso libro quindi nella casa per la disperazione di mia moglie ogni luogo ha un suo libro e questo crea grandi disordini è vero che si può rileggere o smettere Calvino ha detto che è diritto di ogni lettore interrompere la lettura di un libro per grande che sia io non sono riuscito a finire Gomorra tanto per essere per dire un esempio concreto non lo so mi aspettavo un'altra cosa rispetto Saviano per quello che fa ma da puntista letterario mi è rimasto particolarmente difficile l'importante è che uno abbia chiaro che esiste una biblioteca che è fatta di più voci di più libri che riescono che riescono a stare insieme l'ultimo concetto era quello che diceva il collega dell'orgoglio di essere psichiatri italiani lui ha ragione nel senso che la medicina italiana passerà la storia della medicina per due cose per una questione che riguarda la nomenclatura cioè se voi andate a tutte le parti del mondo i medici utilizzano i nostri nomi Ronchi Sibili tutte quelle cose che ci hanno insegnato della seminottica medica perché l'abbiamo fondata noi e poi due cose fondamentali la profilassi della malaria l'ha lamentata agli italiani il superamento dei manicomi l'ha lamentata agli italiani la storia del superamento dei manicomi maledettamente non è scritta e questo è il limite della nostra esperienza nel senso che noi abbiamo dato per scontato che il superamento dei manicomi sia una acquisizione dell'età moderna e non è vero nel senso il manicomio è connaturato all'età moderna nasce con l'età moderna non l'abbiamo ancora superata la modernità e dunque l'abbiamo superata il manicomio i nostri servizi come ho cercato di dire prima hanno degli aspetti manicomiali al loro interno oggi secondo me se vogliamo essere al passo coi tempi cioè rincontrare il divenire sociale che è la fortuna e l'intelligenza di Basaglia allora occorre fare un percorso di de-istituzionalizzazione dei servizi in questo senso l'autoaiuto l'empowerment dei pazienti dare voce alle persone che si rivolgono al servizio di salute mentale è una cosa fondamentale uscire da questo dibattito veramente noiosissimo su mancano le strutture che è una cosa alletrata ai 30 anni e vedere come si possono utilizzare le risorse delle persone e dei servizi per ottenere una presenza più diffusa nella rete sociale è secondo me l'obiettivo del presente dei prossimi anni davanti a noi grazie sono Fanny Zangelmi sono pensionata da 4 anni e ho lavorato per il comune di Modena per molti anni prima coordinando una casa protetta per anziani non autosufficienti e poi istituendo questo ufficio per il contrasto alle tossicodipendenze e altre forme di disagio e lì ho svolto il mio lavoro cercando di mettere insieme tutti gli elementi che potevano sviluppare un welfare di comunità a partire dagli disagi più estremi la tossicodipendenza l'alcolismo e le dipendenze affettive cioè quelle senza sostanze gioco d'azzardo che adesso va molto insomma è in allarme c'è allarme sociale quindi c'è attenzione e ho scoperto nel lavoro che ho fatto nei contatti che ho preso e anche poi negli impegni personali che nel frattempo si sono attivati la interazione tra specifici problemi e situazioni di vita e qualità della vita e quindi della diffusività di certe forme di servizio da una parte e di protagonismo degli utenti dall'altra ecco la giornata di oggi mi dà ragione di questo perché per prima ero andata a Trento a vedere questo strano mondo delle parole ritrovate del fare assieme nella salute mentale là da sola mi chiedevo ma a Modena cosa può venire dentro un mondo che è tecnicamente molto avanzato ma così interattivamente poco poco capace di riconoscersi di confondersi anche insieme e del fare assieme e adesso c'è la settimana della salute mentale non dico che io ho promosso chissà cosa o asseminato ma sicuramente sento che c'è da parte mia stato un investimento che sta producendo molto di più di quanto io stessa aspettassi in quei giorni in quei momenti ma prima di andare a Trento perché poi a Trento ci sono andata per curiosità per conoscere questo psichiatra Renzo De Stefani che sentivo spesso nominare in un'altra associazione in cui ero entrata a forza trascinata dal dottor Corlito che è qui presente quando avevo partecipato sempre nel mio ruolo di capire cosa succede nel mondo delle dipendenze eccetera al corso di sensibilizzazione per sull'approccio ecologico sociale ai problemi alcol correlati e complessi metodo udling di cui non sapevo assolutamente nulla e quella settimana mi ha cambiato la vita e ha sviluppato in me molte curiosità ha ripreso insomma vivere in me molte curiosità molti saperi e anche molti problemi ecco vedere qui oggi esaltare la diffusività di certi modi di fare l'azione dei club ad altre problematiche o parlare dei gruppi misti o del gruppo quello spontaneo che non è specifico va bene o non va bene a me dà molta gioia perché non sempre le associazioni o i servizi parlo quello di Trieste rispetto per esempio a Trento hanno questa capacità di capire le connessioni possibili e le interazioni che possono portare anche a un po' di confusione ma confusione vuol dire fusione con tipico della confusione massima e l'amplesso no? quando si riesce a sentire a non capire più chi è l'uno e chi è l'altro no? che poi però ha bisogno poi dell'articolazione della riseparazione del vedere le specificità non perderle ecco questo meccanismo complesso deve cominciare e sta cominciando ad avvenire sia nei servizi sia nelle associazioni e questo è un grande processo di liberazione di risorse e di aumento e moltiplicazione di risorse quindi grazie di avere potuto vivere questo momento oggi ma il sentire che non è facendo solo club ma facendo anche altro appreso e imparato dal mondo dei club e dalla intuitività del professor Rudolin è un modo per diffonderlo e riconoscerlo anche ad altre esperienze che magari sono diverse hanno regole diverse modi diversi di fare a me oggi dà molta soddisfazione e spero che questa interazione possibile rompa le gelosie dei modelli il modello Trieste che è diverso dal modello Trentino o dal modello di Grossetto che non conoscevo ecco si crea il modello modenese perché i modenesi sono speciali per sentirsi sempre i primi ma certo valorizzando le loro prime lo dicevo ieri al professore ha dovuto venire un napoletano per sbloccare il modello modenese insomma nel senso che di questa dinamicità penso che possiamo essere tutti orgogliosi modenesi non modenesi perché stiamo costruendo delle eccellenze anche qui ecco volevo solo dire questo e testimoniare la mia gioia in questo momento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti